Materia, italiano, argomento, Giovanni Verga Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Agatich. Oggi andremo a ripassare insieme uno dei rappresentanti più importanti del verismo italiano, Giovanni Verga. Ricordate che in questo video non sarò la vostra insegnante, sarò semplicemente la vostra compagna di banco. Partiamo subito. L'esperienza veristico siciliana trova in verga un esponente di genio che da una materia in gran parte condivisa dai suoi coetanei ricava dei significati universali non solo legati alla regione di cui parla la Sicilia appunto, ma anche e soprattutto riesce ad ampliare il discorso a livello nazionale. Questo di solito succede quando la forza delle opere stesse è più forte anche dello stesso autore. Giovanni Verga nasce a Catania nel 1840 da una famiglia della piccola nobiltà agraria. All'inizio studierà con dei maestri privati, poi si scriverà alla facoltà di giurisprudenza sempre a Catania. Lì inizierà a scrivere i suoi primi romanzi, poi si trasferirà a Firenze e a Milano. Lì comporrà la novella Nedda. Proprio in Nedda si inizia a intravedere una propensione di Verga nei confronti del verismo. Verga non nasce da subito verista, anzi all'inizio le sue opere sono improntate sulla letteratura del momento, quindi parliamo ovviamente del romanticismo, ma con Nedda si vede già un minimo di cambiamento che non rappresenta la rivoluzione ma sarà quell'incipit che poi lo porterà a dedicarsi completamente a una produzione di tipo verista. In Nedda infatti troviamo un nuovo interesse verso la realtà siciliana, non supportata però da uno stile realmente nuovo ed adeguato. Nel 1880 darà il via alla lunga e feconda produzione verista, con le novelle Vita dei Campi, I Malavoglia, Novelle Rusticane e Mastro Don Gesualdo. Verga riesce inoltre a portare il verismo anche in teatro. Nel 1922 muore acclamato come una vera e propria gloria nazionale. I primi romanzi di Verga risalgono al periodo in cui lui visse a Catania. Come argomenti di spicco all'interno delle sue opere troviamo l'amore patriottico e il binomio amore-morte, tanto cari al romanticismo. Durante il suo periodo fiorentino troviamo invece romanzi di ambientazione borghese e di costume, sul cui sfondo troviamo sempre storie di amore sfortunati. Come vi dicevo prima, la vera grande svolta sia nel 1872, quando si trasferisce a Milano. Lì entra in contatto dapprima con gli scapigliati. Il romanzo più significativo di questo periodo è Eva, che parla della storia travagliata tra un pittore siciliano e una ballerina. Nell'introduzione esprime il suo desiderio di sincerità e tradisce una sofferenza per il modo di essere borghese. Come vedete, piano piano si stacca dalla tradizione romantica. In Eva vediamo già un piccolo piccolo accenno. Nel 1874 abbiamo poi Nedda. Come vi dicevo prima, è lì che si aprirà la strada verso il mondo verista. Lo svolgimento narrativo di Nedda in sé per sé non costituisce una novità degna di interesse. La cosa su cui dobbiamo focalizzarci invece è l'introduzione. Verga descrive una teoria dell'immaginazione che risulterà per lui fondamentale per la riscoperta del mondo popolare siciliano. L'autore si rappresenta infatti davanti ad un caminetto ed è completamente abbandonato al fascino di questa fiamma. E' solo attraverso questo abbandono dei sensi, quando lui si lascia completamente andare, che nella piccola fiamma del caminetto milanese riesce a intravedere una fiamma gigantesca. Quella che lo scrittore da giovane aveva visto ardere nella fattoria in cui era cresciuto. La capacità di fantasticare dunque si rivela un momento importantissimo per la creazione artistica. Proprio Fantasticheria sarà il titolo di una novella facente parte della raccolta Vita dei Campi. L'iverga espone come vede la realtà contadina. Vista dall'esterno, la realtà siciliana appare governata da due fattori. La necessità e il caso. Chiaramente rispetto all'ottica positivistica, queste due realtà negano ogni possibilità di evoluzione, condannando la storia a una specie di immobilismo. Se questa è la realtà da descrivere, quindi in questo caso il mondo siciliano, Verga ci spiega come fare per raccontarla, pur essendo lontana da noi geograficamente e psicologicamente parlando. Lui afferma che è proprio la lontananza che ci permette il giusto distacco emotivo, utile a garantire la veridicità di ciò che raccontiamo, cambia completamente la posizione dell'autore rispetto ai fatti e personaggi raccontati. Se con Manzoni o con il naturalismo francese, ad esempio, trovate un mio video su questo argomento qui sopra nelle schede e qui sotto in descrizione. L'autore era parte integrante del racconto stesso, si elevava al di sopra dei personaggi. Verga invece si limita a raccontare i fatti così come sono, non interferisce in alcun modo l'autore, anzi, dice Verga, più si è lontani psicologicamente e fisicamente da ciò che raccontiamo, meglio è. Nella produzione verista e naturalista è molto importante la novella e Verga non si tirerà di certo indietro. Abbiamo diverse raccolte come La vita dei campi e Novelle rusticane. Tra le novelle di vita dei campi è molto importante ricordare La lupa e ovviamente Rosso Malpelo. Se andate su Instagram troverete un mio IGTV dove appunto vi riassumo questa opera. La roba e la libertà invece sono le più significative tra le novelle rusticane. Sul modello dei grandi naturalisti francesi anche Verga organizza i propri romanzi in un ciclo che ambisce ad attraversare tutte le diverse classi sociali, dal popolo fino all'aristocrazia. Egli scrive però solo due titoli, I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo, il primo rappresentante della realtà popolare e il secondo dell'ascesa borghese. La convinzione alla base del ciclo dei vinti è che il progresso sia impossibile e che le vicende umane degne di essere osservate e descritte siano quelle destinate alla sconfitta. Ed è questo poi il motivo per cui chiamerà questo ciclo dei vinti. I Malavoglia è una saga familiare. Prima di chiamarsi così, Verga le aveva dato il titolo di Padron Tony, poi decise di cambiarlo proprio con I Malavoglia. Questo nuovo titolo mostra la volontà dell'autore di abbandonare l'impianto tradizionale costruito intorno ad un unico eroe. I Malavoglia infatti sono un romanzo corale circolare in cui la storia di un'intera famiglia parte da una situazione di relativa prosperità economica per poi passare alla rovina e infine concludersi con un'ipotesi di ripresa. All'interno dell'opera troviamo la metafora del pugno chiuso che svela uno dei principali valori alla base del mondo popolare, l'aiuto reciproco dei membri di una comunità. Oltre a questa metafora importante del pugno troviamo anche altre tematiche fondamentali all'interno di questo romanzo. Ad esempio il ruolo simbolico della casa e della barca che sono quasi membri della famiglia, degli oggetti personificati. Inoltre troviamo l'accanimento della malasorte che si abbatte sui Malavoglia con ogni possibile strumento colpendoli nei loro beni, nei loro affetti e addirittura nelle loro stesse vite. Vi è una catena alternante di dolore e gioia, speranza e sconfitta. Con Mastro Don Gesualdo invece, rispetto ai Malavoglia in cui era stato introdotto questo romanzo di tipo corale, con Mastro Don Gesualdo torniamo a un impianto narrativo più tradizionale. Infatti qui il protagonista e la sua storia sono al centro della scena. Tra i temi presenti all'interno del romanzo due sono quelli dominanti. La ciclicità con cui si sviluppa la vicenda di Gesualdo, l'infelicità a cui sono destinati gli affetti di fronte alla legge della convivenza. Sia la moglie che la figlia del protagonista amano un uomo che non possono sposare perché è troppo povero. Quindi in questo caso la ricchezza si rivela una dannazione non solo per loro ma anche per lo stesso Gesualdo che si vedrà negare l'affetto e l'amore della figlia. A questa struttura narrativa più tradizionale si affianca uno stile uniforme meno complesso rispetto ai Malavoglia. Il protagonista è uno, Gesualdo, e una è la voce narrante e il punto di vista, quello di Verga. Il ciclo dei vinti resterà interrotto. Due sono i possibili motivi. Il primo è legato all'età dell'autore. È altrettanto probabile però che lo scrittore, avendo ormai maturato uno stile così straordinariamente unico e innovativo, non volesse in qualche modo con questo ciclo tornare indietro alla produzione milanese scapigliata, un passato che ormai aveva nettamente superato. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Abbiamo fatto una bella carrellata di Verga e delle sue opere. Se avete delle domande, altre curiosità, scrivetemi nei commenti. Mi raccomando, supportatemi con un bel like e iscrivendovi al canale. Attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Seguitemi ovviamente anche su Instagram, qui trovate il mio nickname. Ogni settimana nuove novità e contenuti. Alla prossima e stay tuned on Agatich. Ciao ciao! Agatich.